Non c'è pace per Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, che ormai sono nel mirino del gossip e stanno sempre sotto i riflettori. Tutti gli appassionati del pettegolezzo non fanno che aspettare qualche novità sul triangolo amoroso D'Amico Buffon Seridova. E chi ha addirittura seguito la giornalista sportiva scoprendo una sua misteriosa visita all'avvocato della Juventus Riccardo Grande Stevens. Qui però è necessaria una spiegazione. Lui è stato recentemente pizzicato con Deborah Roversi, ex moglie di Andrea Pirlo, che adesso è fidanzato con Valentina Baldini, che è la ex proprio di Riccardo Grande Stevens, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa. Insomma, gli elementi per uno gossip ci sono tutti e a collegare i vari intrecci ci ha pensato direttamente Ilaria facendo visita all'avvocato. Una visita un po' strana, se si considera che la D'Amico, copertissima e protettissima, poi è uscita dal palazzo per salire su un'altra macchina. La vicenda qui si infittisce.